Due notti fa abbiamo guardato tutti gli highlights del campionato su Videolina o Dinamo Sassari 2. C'è tante gare che abbiamo vinto solo perché abbiamo un grande cuore. Mi ricordo bene quella partita, è stata sicuramente un'emozione incredibile perché c'era un'atmosfera strana dentro il palazzetto, la gente era impazzita per quel quarto che stavano facendo, abbiamo avuto Greg, Caleb e soprattutto Vanuzzo che hanno messo delle triple decisive e siamo stati compatti, unitissimi contro una squadra di altissimo valore. Lì sembra veramente di essere all'inizio della stagione, quando non giocarti niente, è bella la spensieratezza con cui si entra in campo prima della partita. Lì sembra veramente di essere all'inizio della stagione, è il numero 6, Caleb e il numero 8, Jack.